Musica Ciao ragazzi eccomi qua per un nuovo video Un video unboxing di due cose che mi sono arrivate Una da multiplayer e una da ebay Allora Volevo farvi vedere Dicevano mini zainetto Ma proprio mini guardate come è piccolo Piccolissimo pensavo che era più grande sinceramente Comunque Lo zainetto di Sony Qua vedete originale Poi mi è arrivato da ebay Il principesso E' un fumetto che non ho ancora letto Ho letto una recensione di questo fumetto Ed è particolare Poi non piacere come può piacere E' un fumetto diciamo Lo chiamiamo così Non è un fumetto etero Ecco Un fumetto gay Perciò chi Chi è contrario a queste cose Non mi segua neanche più al canale Perché io Amo tutte le specie Si danni male alle persone Gay o non gay o qualsiasi altra cosa sia Poi Volevo fare un'altra cosa ragazzi Io Ho creato Un gruppo con dei ragazzi Che sono iscritti al mio canale Simpaticissimi Che sono Aldo Che è la mia piccola mascotta Lorenzo Che è Rocky Rocky 65502 Poi c'è Pierfra 2001 Sarabri Lo sentite Poi c'è Simon Deso Che è Diego Lorenzo E Squarto Che è Antonio Sono qua con me Tutti qua Adesso Li ho tutti qui Nel party Sentite le voci Ragazzi salutate Tutti insieme Ciao Ciao Ok Niente Abbiamo creato questa Questa cià Ci troviamo Giochiamo Si ride Si scherza Sono ragazzi bravi E niente Io volevo ripetervi sempre ragazzi Per la guest week Mi raccomando Cercate di venire in tanti Io ci sono Ecco lo sapevo Io ci sono Che ammazzo il cane Fra poco Però fa niente Ci sono Il venerdì E la domenica Spero di conoscere Ragazzi di Milano Che sono iscritti E questi ragazzi qua Qualcuno è di Milano Qualcuno no Purtroppo E non avrò l'occasione Di conoscerlo dal vivo Comunque Ci sarà occasione Poi per fare magari Un incontro particolare Da una parte Dove ci si incontrerà tutti Loro adesso Stanno giocando Chi sta provando La demo Di FIFA 2005 2005 Sì 2015 Hanno detto Che è bella Ci si trova bene Adesso Lili 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 Per favore Aspettate Che ammazzo il cane Le tiro dietro qualcosa Ammazzato il cane E Non è stato Spaccato tutto il cane Niente ragazzi Volevo dirvi Niente Iscrivetevi al mio canale Continuate a seguirmi Questi sono i piccoli Acquisti che ho fatto Perché sto aspettando ancora 200 cose da ebay Ma non arriva niente Dall'America Dal Giappone Si sono persi Boh Sala madonna Vabbè Niente Loro Sono qui con me Loro Stanno giocando Stanno provando la demo Dicono che è bella Lo consigliano Lo consigliate FIFA Si vedete Si Io l'ho provato Per vincere io Che sono handicappato Nel gioco del calcio Ragazzi 28 a 0 Lo consiglio a tutti Anche a bambini di 5 anni Perché se vinco io Vincono tutti Cioè Veramente No Loro sono bravi Sono bravi perché Giocano tanto Sono bravi perché Si impegnano anche Io meno tempo di loro E poi Prenderò Minecraft Mi insegneranno loro Che c'è già Qualcuno bravo A giocare Insegniamo come si gioca Perché non ci ho mai capito niente E niente ragazzi Adesso io mi riunisco A loro A loro party Per giocare con loro Vediamo che cosa Tanto si chiacchiera Sempre di più Del meno E niente Io Phil Mi raccomando Mettiti sotto A lavorare sul canale Fai la sigla Fai quello che devi fare Mi raccomando Cominci ad entrare Che è il mio socio del canale Poi Farò un altro ragazzo Socio del canale Di questi ragazzi Che mi seguono E che sono in party Sempre con me Che caricherà video Farà anche lui Video recensioni Qualche ragazzo in gamba Che Ha voglia di fare Queste cose qua Phil mi raccomando Fatti sentire Mettiti sotto Niente ragazzi Ripeto Questo qua Da ebay Pagato 12 euro Era un'offerta E questo qua È il principesso Non lo consiglio A un pubblico Meno di 18 Perché Sono fatti Sono Disegni giapponesi Fatti molto bene Ed è una storia Un po' particolare Come ho detto Io amo tutti i generi Tutti i colori Della vita Tutti Il bianco Il rosso Il verde Il cinese Fin che si comportano bene Va bene Quando si comportano Poi male Saranno cazzi loro Questo qua Niente Adesso io vi saluto Vi rimando Al prossimo video Che è Che è cosa Vediamo domani Cosa comprerò Entro sabato Dovrò comprare Sicuramente qualcosa Lo so O per pc O per ps4 Lo recupero Forse lego marvel O qualche Asciun figuro Che mi arriva qualcosa Da ebay Io vi faccio salutare Dai ragazzi Ragazzi Salutate Io vi ricordo Che loro sono Aldo Lorenzo Perfra Sarabri Che è Simon Diego Rocky Lorenzo E Anto Che è Squarto Mi raccomando Ragazzi Se volete aggiungerli Poi dal mio Playstation Prendeteli Perché sono ragazzi Che giocano con tutti Sono socievoli Sono Sono sportivi Non si incazzo Sono tranquilli Mi raccomando ragazzi Seguitemi Spolliciate Chi mette non mi piace Mi può spiegare Perché mette non mi piace Perché magari sono io Che sbaglio qualcosa Magari riesco a migliorare Perché io non sono bravissimo Io non ho mai detto Di essere bravissimo Io cerco sempre Di imparare Di apprendere Chi può darmi dei consigli Chi vuole fare sighe Per il mio canale Chi vuole Aggiungersi Al mio canale Che abbia voglia Comunque di lavorare Di interagire Con le persone Tutto quanto Che sia corretto Lo scriva sotto Chi è la guest week Lo dica Così ci incontriamo Anche perché avrò Una maglietta speciale Con il suo prannome Del canale Spero che qualcuno Mi riconoscerà Niente ragazzi Ci vediamo al prossimo video E vi saluto Con tutti i ragazzi Del party Ci vediamo alla prossima Ragazzi Ciao belli